ooooh vediamo che roba fighissima lui tamburi ooooh mio dio per le mie amiche per tutte le mie amiche del canale che figata ragazze guardate cosa mi ha dato questo gioco pazzesco bellissimo ragazzi hot wheels un lashed e barbie mi ha dato il furgoncino di barbie raga il furgoncino di barbie spettacolare andiamo a provarlo insieme dai 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 ragazze mitiche guardate cosa vi porta marco draus il furgoncino di barbie incredibile incredibile bellissimo mi raccomando ragazze seguitemi così faremo live fighissime anche 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 con voi le mie mitiche ragazzi eccoci qua allora questo furgoncino è fantastico di vista che ha un piacere veramente che botta tende anche un po' a ribaltarsi eh tende anche un po' a ribaltarsi io mi raccomando ragazze adesso faccio un video di tre giri per voi dedicato a voi siete fantastiche che mi seguite vedete sul canale e niente porto un sacco di giochi con le protagoniste femminili quindi io vi aspetto più numerose possibili eh se potete portare anche un po' di gente in più mi sarei veramente felice felicissimo oh ma no è bellissimo questo furgoncino di barbie è bellissimo chissà cosa metteranno i grandissimi ragazzi della milestone questa software house ragazze e ragazzi eh questo video comunque è per tutti è una software house incredibile che si trova a milano e fanno giochi fighissimi tipo il moto gp il ride quello di moto hanno fatto giochi di macchine e questa figata di hot wheels tutti i vari motocross e roba del genere se siete interessati eh c'è tutto sul mio canale diviso in cartelle e ci sono un sacco di giochi eh un sacco di giochi porto adesso sto cercando di finirne il più possibili ma il tempo sempre quello che è e riesco a portare quello che piace di più alla gente e piace di più anche al marco drums games ecco ragazzi dai abbiamo finito quasi finito questo giro insieme con il furgoncino strafichissimo di barbie vedremo cosa metteranno i ragazzi come dicevo della milestone quale altro furgoncino macchinina perché a parte il furgoncino c'era anche la macchina di barbie se mi ricordo bene non è quella dove andava con ken cabrio quello lì sarebbe una gran figata ragazzi della maestro mettete la macchina di barbie cabrio oppure qualche altra macchina qualche altra cosa molto bella al femminile sul hot wheel va bene ragazzi io vi ringrazio e vi saluto vi aspetto sul canale nelle live nelle registrazioni mi piace commentate portate gente e ci vediamo per la prossima figata di gara di partita di qualsiasi roba fatta insieme per divertirsi mi raccomando ciao a tutti ciao a tutte questo è un video per voi ragazze ciao eh ciao mitiche ciao mitici ciao a tutti ciao mitico marco drums games channel ciao ciao ciao